Sì, sono uscito da The Last of Us Me ne rendo conto, ma ragazzi, stiamo in quarantena Qua a Roma, io so, quattro settimane che sto a casa Perché mi faceva male il culo, fistola, ascesso e cose Non posso andare a barbiere, oggi mi sono sistemato qua Non so se tenevi accorto, ma chi dove fai? Accontentiamoci Aguna matata ragazzi, ben ritrovati dal VoxoCM89 E ragazze, siamo qua tornati in un nuovo video Finalmente torno alla posta di Ciccio La mia casella postale è sempre aperta Semplicemente che, dato che sono stato male Non ho registrato di là o altre cose Notte, notte o mai Momento spam, vi ricordo Amazon, il mio referral link Il mio referral link instant gaming Card Game Club Level Up Signori, Level Up l'energy drink 8 mg al giorno In mezzo litro d'acqua Dai 16 anni in su È un energy drink Ci stanno tanti bei gusti Sempre qui sotto Col mio codice Cicciochamero89 Riceverete uno sconto E se acquistate su Amazon Utilizzate anche il mio referral link È importantissimo Salvatevelo Perché a voi non vi costa niente E in più mi supportate E noi ogni venerdì più o meno Andiamo live E vediamo quello che comprate voi su Amazon Allora, durante il periodo in cui io stavo malissimo Mi è arrivato un pacco Probabilmente dalla Sicilia Da qualche parte Pieno di arance e mandarini Quella roba ovviamente si rovinava L'abbiamo mangiata Ci siamo fatti le spremute Erano buonissimi E in più Mi è rimasta questa cosa qui da aprire Eccolo qua Questo è il pacco da giù Cioè io lo chiamo il pacco da giù Questo qua Perché Andiamo a vedere il pacco Andiamo a vedere la letterina E vediamo che cosa c'è scritto Bruno Sicilian Finest L'assenza L'essenza del gusto siciliano Da spalmare Oh come Già siamo partiti con questa roba Da spalmare A me già mi piace Però ecco Ok Qui ci sono tanti bei ragazzotti Che probabilmente Fanno le loro creme spalmabili Il nero di sesamo Madonna Ma quanta roba c'avete Mamma mia Quindi care società Se volete mandarmi qualche cosa Mandate vestiti Roba da mangiare Macchine Case Insomma Ciao ciccio Mi chiamo Andrea Ho 13 anni E sono un tuo fan Abito in provincia di Ragusa La terra di Montalbano Che sicuramente conosci Siccome ti seguo sempre Mi è venuto in mente Di mandarti un piccolo pacco Con prodotti artigianali Fatti da un'azienda familiare Di Ispiga Che si chiama Bruno Siciani Finance Tastes Sono miei carissimi amici Sono sicuro che Piaceranno anche a te E a Veronica So della tua dieta Quindi ho scelto questi prodotti Sul consiglio di Bruno E i tuoi suoi figli Che collaborano con lui Che carini che siete Spalmabile al sesamo Di Ispiga Madonna Sembrava che lo sapeva Presipio Slow Food Con erititrolo Che è il zucchero naturale Contenuto ovviamente Da saccarosio Così mi hanno spiegato Sì sì lo conosco Tine che ha 100% di pasta di sesamo Utilizzabile in cucina Per fare l'ammus Oltre ai peripetri Se potresti inserire Una tua ricetta Spalmabile al pistacchio Ragazzi Ma questo Questo è Questo è Questo non è un ragazzo Di 13 anni Questo è Non lo so chi sei Ragazzi io di questo Vado stupido Io ve lo dico Cioè regà Io di questo Vado stupido No io te lo dico Io di questo Vado stupido Vado eh Mamma mia Mmm Mmm Si sente lo zucchero Ci sento anche l'arancia Buonissimo Ed eccole qua Queste sono Le creme Che mi ha mandato Crema di sesamo Tostato Ma col sesamo Tostato Ma io penso Che ci posso fare Delle cose Incredibili Crema di sesamo Di ispica Confettura di carota Crema spalmabile A pistacchio E crema di sesamo Tostato Crema di sesamo La mandorla Bianca Tostata Andiamo a vedere Le chilo calorie Allora Infatti Dicevo È impossibile Che c'è una crema Di pistacchio A basso contenuto Di zuccheri Perché per 100 grammi Ce ne stanno 37 e 9 Che però Effettivamente Ti posso dire Che non è una Delle creme spalmabili Più Grasse Cioè Di zucchero Io devo Per il content Scusa Mamma Ma ha fatto il dito Perché non posso? Ce lo vuoi mettere Pure tu Il dito Non ce lo vuoi mettere? Tu sei proprio sicura? Mmm Che schifo Mmm Dove? Che merda Non si può Magna Poi mi sono arrivati Questi pacchi Mega giganti Questa roba qua Che vado ad aprire Insieme a voi Ha un imballo Niente male Che Voglio andarmi a godere Insieme a voi E c'è La letterina Ciao ciccio Mi chiamo Lorenzo E sono un tuo fan Da perchio tempo Da un po' mi girava Questa idea In testa E finalmente Ho deciso di realizzarla Una fanarte Per celebrare Ciccio signore dei charizard Spero che ti piaccia Perché mi sono impegnato Tanto Ti chiedo solo di salutare I miei amici I due grandi fan Giorgio E Andrea E i due Federico Che ti seguono Sempre Ciao ragazzi Un abbraccione Sono anche tu abbonati Ti amiamo Mi fai sempre morire Dalle risate Se puoi Ti prego Se aprire questo pacco In una volta Di una volta Checco Abbiamo capito Che sono Nabi Grazie Lorenzo E grazie mille A tutti quanti voi Checco Ormai Sapete ragazzi È un cretino Non è che Devo dirvelo io Di che cosa Si tratta Neee Vabbè Dai Ma di che stiamo parlando No Ma non è vero Ma oggi Di che stiamo parlando Per favore Però C'ho meno panza Eh Però Vabbè Non è vero Ce l'ho È giusto Che sia così È bellissimo È bellissimo Grazie infinite E poi Regà Dato che Non ce ne C'è Una cosa gigante Che andiamo A aprire sempre insieme Sembrerebbe Essere Un quadro Un qualcosa Di incartato In maniera Clamorosamente Bella Con questa carta Regalo qua Però Non ho trovato Nessuna lettera Sperando che ci sia dentro Sperando ci sia dentro Eccola qua Eccola qua Tra l'altro L'ho aperto anche Anti Anti scam Ciao ciccio Sono Mario Ti seguo da tanto tempo Guardo ogni tuo video E pubblico ogni tua live Ti mando questa tela Dipinta da me Per ringraziarti In trattamento I tuoi video e live Ti ringrazio notti Per avermi dato la possibilità Con la serie La posta di ciccio Per mandarti qualcosa E sono molto contento Così Bella ciccio Mario Mario Notacci tua Così Tanto per Per parlare Guarda Oggi è una giornata Io ho detto Oggi è una giornata Un po' così Molto bello Sì oggi è super giornata Artistica Guarda che bello Che mi ha fatto Cicciochevano 89 Col paguro Con youtube E among us Che non me ne andrei Assolutamente a privare Cioè ma sapete che c'è E che comunque Vi impegnate un botto Un botto E si vede Molto molto bello Grazie mille Marie Dici alto 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 Da 3d Made up Se non erro Però qua amore Mi urge Il coltello Perché se no Non apro Quindi Ciao ciccio Siamo due fan Che tra poco Siamo lanciati In mondata stampa 3d Seguiamo spesso Due live Due video Conoscato passione Per i pokemon Anche perché abbiamo Deciso di creare Questo pokemon Shine Solo per te Spero ti piaccia In caso ci siano problemi Vuoi realizzare Qualche tua idea Scrivici Alla nostra email Quindi ci avete Anche i loro contatti Ragazzi Non ci credo Oh mio dio Vabbè Allora Non vi preoccupate Di quello che state Per vedere Lo vado a riparare Si ripara Con l'attack Si sistema Non vi preoccupate Eh regà Porca puttana Che bello è Regà Mo lasciate perdere Che l'aletta Gli si è rotta E io ovviamente Non c'entro niente Per l'amor di dio Perché Per carità del cielo Ma calcolate Questo si ripara Guarda Io faccio così Con l'attack E non si vede più niente Ve lo posso garantire Mo perché non so Se ce l'ho l'attack Lo riparo Guardate Quanto È Bello Mamma mia Non vi siete Regolati Ragazzi Ma veramente Stampate sta roba Pazzesco Bellissimo Una posta Di ciccio Spettacolare Non so Che dirvi Cioè regà Ma lasciamo perdere Mo che Porello Che si è rotta L'aletta Ma Stiamo a scherzare Questo lo riparo Subito Non vi preoccupate Sì Spero che il video Vi sia piaciuto Vi ricordo che la mia Casella postale È aperta Mi potete mandare Qualsiasi cosa Voi vogliate Se siete società Mandatemi roba Se siete privati Mandatemi roba L'importante È che lo fate col cuore Perché io lo faccio col cuore E vedo quanto voi ci teniate E spero che voi vediate Quanto ci tengo io Vi voglio bene Guardate gli altri due video Vi ricordo di lasciare like Al prossimo appuntamento Con il vostro Cevro89 Ciao ciao